Questa è Berk, il segreto meglio custodito di questa parte di... beh, nulla. Sì, forse non sarà il massimo della bellezza, ma questo mucchio di rocce riserva un bel po' di sorprese. La vita qui è splendida, magari non molto adatta ai deboli di cuore. La maggior parte della gente è di solito a passatempi come intagliare il legno o ricamare su tela. Noi invece preferiamo fare una cosa che ci piace chiamare... Corse di draghi! Oh, sì! Oh, mi dispiace, gambe di pesce! La volevi tu? Prendi, bambola! Ti ho già detto che oggi sei bellissima, uno spettacolo! Andiamo, vomito! Comincia a esserci puzza da queste parti! No, ti odia ancora! E vai! Che stai facendo, moccicoso? Così vinceranno loro! Lei è la mia principessa, può prendersi tutto quello che vuole! Testa brutta! Ma non aveva provato a seppellirti vivo! Sì, ma solo per poche ore! Un tempo i draghi erano un problema, ma parliamo di cinque anni fa. Ora vivono tutti qui e diciamo la verità, perché non dovrebbero? Abbiamo stalle apposta per loro, stazioni di rifornimento in cui possono mangiare di tutto, un servizio completo di lavaggio per draghi e persino sistemi di prevenzione per il fuoco davvero di altissimo livello! Bene, è ora, scaracchio! D'accordo! Ultimo giro! La pecora nera! Coraggio tempestosa! Possiamo ancora vincere! È il tuo grande momento! Fa un buon volo! Io su, 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 su! Ottimo lavoro, muscolone! Ecco a te, tesoro! Sì, la pecora nera! Presa! Astrid vince la gara! E cap... Non si sa dove sia finito. Non si sa dove sia finito. Allora, che ne dici, amico? Vogliamo provarci ancora una volta? Sventato! Andrà tutto bene! Pronto? Sì! Sì! E' meraviglioso! Dobbiamo lavorare ancora parecchio sul tuo volo planato, amico. Sdentato! Cos'è? Adesso fai il broncio, bestiolina? Beh, allora senti questo! L'hai sentito? Eh? Ti è arrivato tutto il mio profondo rimorso! No, dai, andiamo! Non faresti mai del male a chi ha una gamba sola! Ok, ok, hai ragione, hai ragione, hai vinto! Hai vinto! Ed è a terra! È stato battuto, che brutta cosa! Draghi e vichinghi e di nuovo nemici! Decisi a combattere senza esclusioni di colpi fino alla... Lo sai che poi non va più via! Allora, come la chiamiamo? Ascialla che prude, d'accordo! Beh, che dici? Vogliamo andare?